dentro lector in fabula negli ultimi giorni della ventesima edizione e parliamo di un libro molto diverso cioè credo che in un contenitore come questo siano tanti e veramente molteplici diciamo così i libri presentati anche nelle forme nelle strutture nei generi ma questo libro ha una sua singolarità che vorrei richiamare dall'inizio salutando ovviamente l'autrice che in realtà dialoga poi vi dirò meglio con un altro autore il libro si intitola il pensiero affettivo appena stato pubblicato da feltrinelli appunto saluterei con un applauso ginevra bompiani parlare con ginevra bompiani diciamo è facile e difficile forse allo stesso tempo perché le occasioni gli inneschi pretesti per farle delle domande per conoscere qualcosa delle sue vaste passioni ed esperienze beh insomma non metterebbero a disagio no potrei anche partire da molto lontano perché come forse sapete c'è dentro la sua vita una ascendenza che rimanda ovviamente fin dal cognome una storia editoriale culturale decisiva nel nostro paese ma nel 2002 poi ha fondato una casa editrice che si chiama nottetempo che ancora continua il suo corso ma che lei insieme a roberta inaudi fondò appunto poco più che vent'anni fa in mezzo a queste due cose a questi due poli perché nella casa editrice fondata da valentino bompiani era una giovane ragazza che però aveva delle idee delle intuizioni quindi è stata subito dentro a quel lo straordinario cantiere e in termini poi di capacità su questo torno tra un momento di dialogo di costruzione di relazioni in molte interviste l'ho sentita raccontare anche con una certa felicità non dico retroattiva ma insomma con la coscienza ad una certa felicità del mestiere di editore di intellettuale come di uno che poi a nodo dei destini cerca delle occasioni mette in dialogo persone che non sarebbero state in dialogo se non avessero trovato un pretesto editoriale e culturale per farlo e poi le stagioni della sua esistenza sono tante diverse anche decentrate c'è tutta una stagione francese insomma io sono molto affascinato ma non faremo un'intervista biografica a ginevra bompiani se non per piccole porzioni e invece stiamo su questo libro che appunto nasce come un libro lo dicevo poco prima di cominciare che potrebbe essere scambiato per una conversazione in parte lo è non è certo un libro intervista ma nasce appunto insieme a saradis tanopoulos che è uno psicoanalista greco che è anche un amico di genevra bompiani questo non è trascurabile nell'economia del libro perché è un libro che nasce dall'amicizia dentro l'amicizia una donna che è stata dentro il mondo culturale intellettuale che scrive che ha scritto che ha tradotto che si è interessata alla letteratura la filosofia cerca un interlocutore in questo psicoanalista e prova a mettere a fuoco così potremmo dire una sua intuizione scambiandosi delle lettere con lui delle email immagino note sono datate una dopo l'altra ma come si legge nella nota che io nella prima lettura avevo saltato il libro è organizzato in un modo particolare perché non abbiamo a testo le lettere di ginevra e poi lettera di ginevra lettera di saradis no abbiamo tutte le lettere di ginevra nel primo blocco compattate e in una seconda sezione del libro tutte le lettere del suo interlocutore e chiaramente questo crea un'interessante sfasatura che però è utile a capire come nasce questo libro che intenzioni ha se io ho una intuizione cioè se mi sembra di aver colto qualcosa in qualunque momento della mia esistenza quello potrebbe essere il frutto di letture pensieri stratificati insomma a un certo punto mi sembra di arrivare a una sintesi e da questo effettivamente posso essere sorpreso meravigliato come faccio a mettere alla prova quell'intuizione la metto davanti agli occhi di qualcun altro di un interlocutore e mentre la metto davanti agli occhi di questo interlocutore io comincio a chiarirmela cioè come ci dicevamo un attimo fa prima di entrare a vedere il percorso di un pensiero come si chiarisce come qualche volta recede come si contraddice come poi si come sbalza in avanti laddove trova una conferma perché c'è pure la felicità del pensiero dentro questo libro cioè la felicità della condivisione di un pensiero non voglio farla lunga perché voglio sentire ovviamente ginevra e per introdurla credo che sia utilissimo leggere proprio l'incipit di questo libro caro saradis da quando abbiamo deciso di scrivere questo libro insieme mi domando come faremo se ce la faremo se capiremo capirò davvero qualcosa che non avevamo capito prima io voglio non dico sorprenderti ma magari spiazzarti un po ginevra e mi fermo qua cioè completo poi la lettura che avevo in mente che è di ovviamente cinque sei righe e quelle immediatamente successive toccano il centro del del discorso il pensiero affettivo perché voglio chiederti una cosa su queste prime tre righe che uno potrebbe leggere pure rapidamente invece voglio risottolinearle dice mi domando come faremo se ce la faremo se capiremo capirò davvero qualcosa che non avevamo capito prima questo mi è sembrato sorprendente nella sua trasparenza perché mette di fronte a me lettore la possibilità che un libro mi consenta di capire qualcosa che non ho capito questo naturalmente per chi legge filosofia può essere ovvio per chi non è abituato a leggere filosofia potrebbe essere più sorprendente allora perché c'è questa piccola esitazione questa incertezza pur partendo ti chiedo da un'intuizione che un minuto dopo un attimo dopo un rigo dopo viene chiarita immediatamente come un'intuizione che tu hai avuto intorno al pensiero affettivo quindi un attimo prima di svelarla ti chiedo proprio questo sulla incertezza del pensiero l'insicurezza e la ricerca di una conferma e dunque di un interlocutore si amico saradis che ama molto amicizia e praticare l'amicizia in tante forme voleva che scrivessimo un libro insieme e io ho detto va bene e gli ho proposto come tema una frase che mi aveva attraversato e che mi aveva attraversato come un'evidenza io io non credo all'argomentazione io credo all'evidenza certo l'evidenza non dura tanto ma il momento in cui appare è fiammante è indiscutibile ma dopo però man mano che si stempera un po comincia a chiederti ma che voleva dire e così ero di fronte a questa cosa di cui non dubitavo che fosse vera ma non sapevo bene che cosa che cosa avesse inteso che cosa volesse dire posso dirla adesso la frase puoi dirla certo così la sveliamo la frase ma dopo tutto l'affetto è una forma del pensiero se tutto il pensiero anche l'affetto e pensiero ma questa frase urta contro tutta una tradizione che dice il contrario e giusto appunto questa tradizione la tradizione psicoanalitica a cui che il grande riferimento del mio amico saradis perché per la psicoanalisi per freud quello che nasce prima è l'affetto il pensiero nasce dall'affetto invece secondo questa mia evidenza che non è nemmeno un'intuizione perché non è nemmeno un'intuizione perché un'intuizione è una strada ti fa andare avanti mentre un'evidenza ti dice una cosa e tu ci credi ma non sai poi né andare avanti né perché ci credi ecco secondo questa invece secondo me quindi il pensiero nasce prima dell'affetto ora voi sembrerà magari una questione di lana caprina ma non lo è in realtà è importantissima perché se il pensiero nasce dall'affetto da cosa nasce dall'emozione evidentemente l'idea è che l'emozione diventi pensiero ma l'emozione è una cosa selvaggia è qualcosa che non controlli che è la tua intimità più grande ma non è tua viene da fuori e tant'è vero che al primo momento al primo istante dell'emozione non sai nemmeno se buono o cattiva dire quando un bambino nasce piange cioè questa è la sua prima emozione la paura e anche un po il disgusto del mondo cioè non gli piace non gli piace ma non lo sa ancora che non gli piace sa solo che una cosa terribile che gli è venuta addosso e piange ora questa se l'affetto fosse il come dire la conseguenza diretta di questo selvaggio che l'emozione noi faremo bene a proteggerci faremo bene a stare attenti faremo bene come Freud ci induce a fare ci spinge a fare a mettere tutte le difese che la ragione può trovare ma se invece ha ragione questa mia evidenza e cioè tra l'emozione e l'affetto subentra il pensiero perché subentra un sapere perché se io se io sono bambino nasce e ha questa emozione fortissima e non sa ancora cos'è non sa ancora se deve essere contento o scontento per sicurezza sta scontento ma so però potrebbe invece dire ma che bello sono in un nuovo mondo non c'ho più tutto questo liquido amniotico che mi faceva veramente schifo comunque non lo sa ma quello che vuole secondo me è secondo me sapere soprattutto quello che vuole nel duomo di pisa dove la scena della giudizio universale in cui gli uomini le donne e un re escono dalle tombe e non sanno ancora come saranno giudicati non sanno ancora se andranno paradiso o l'inferno è un po' la stessa cosa è un'emozione fortissima si vede questo che re che esce insonnolito dalla tomba e si guarda intorno e non sa chi lo ghermirà quello che vuole soprattutto è sapere quindi secondo me l'emozione chiama il sapere ed è il sapere che usando l'emozione riportandosi dentro l'emozione crea piano piano l'affetto e quindi secondo me questo affetto non è più una cosa intendiamo cioè l'affetto non è una cosa solo buona l'affetto è un termine per dire passione diciamo può essere l'invidia può essere la gelosia può essere l'odio può essere l'amore ma comunque questa parte emotiva del pensiero che secondo me è la più alta facciamo bene a tenercela molto molto cara e se c'è una cosa a cui dobbiamo stare invece attenti e difenderci un po' è la ragione giustamente Calderon della Barca diceva il sogno il sogno della ragione produce mostri come in spagnolo non si sa se dice il sonno della ragione o il sogno della ragione ma secondo me dice il sogno della ragione il sogno della ragione produce mostri e noi lo sappiamo perché siamo circondati in questo momento da mostri non abbiamo altro che mostri qui siamo benissimo per carità posto molto bello molto gradevole molto riparato ma se guardate il mondo fuori di noi e il mondo italiano che ha fatto un balzo nella mostruosità da ieri che veramente vi prego di non prendere sotto gamba sì siamo circondati da mostri perché ci siamo lasciati sfuggire il pensiero cioè non abbiamo perseguito il pensiero affettivo continuiamo a pensare che dobbiamo farci guidare dalla ragione ma la ragione è incapace di decidere questo è uno studio scientifico, neurologico mi sono molto affidata alla neurologia per capire appunto c'era un paziente che aveva avuto un tumore lo hanno operato e naturalmente gli hanno toccato certe cose però quando si è ripreso con lui si poteva parlare di qualunque cosa era perfettamente in sé ragionava benissimo gli si poteva chiedere domande all'infinito ma questa è la cosa strana non si arrabbiava non si irritava mai a tutte queste domande non si irritava mai non si stancava e semplicemente non sapeva rispondere perché quello che era stato toccato nel suo cervello era la sfera affettiva e quindi lui era tutto ragione e con la ragione si ci si protegge ci si difende si argomenta ma non si va da nessuna parte ecco come avete capito è un libro di filosofia non nel senso della pretesa della categoria come genere editoriale o culturale è proprio che è filosofia in progress cioè è un tentativo che fa un essere umano di capire qualcosa che come dicevi tu si ho usato la parola intuizione ma è vero che tu stessa proprio nella prima pagina dici evidenza perché è qualcosa che si squaderna luminoso davanti a te e ti sembra che sia tutto così incredibilmente chiaro è proprio quando lo passi al vaglio di una ragione capziosa che quello si ricontrae quindi devi rintuzzare devi provare a rischiarirlo a rischiararlo e lo fai però procedendo con un alleato e questo mi sembra tipico della filosofia perché tu stessa usi la metafora o del palleggio della camminata parli di una camminata in cui uno sente i passi anche un po' fangosi pesanti vorresti correre ma ci sono appunto gli ostacoli di un raziocinio di un pensiero che corregge quell'evidenza e quindi poco dopo ma ormai l'hai svelato l'affetto è una forma del pensiero dopo poco dopo quella espressione dici beh avrebbe anche potuto venirmi al rovescio il pensiero è una forma dell'affetto sarebbe stata più chiara dici al tuo interlocutore tu come analista me l'avresti spiegata ma se tutto è pensiero nei termini in cui l'apostolo Giovanni dice in principio era il logos e dunque tutto sta dentro il pensiero allora l'affetto ne è una forma e vi leggo queste cinque righe che avevo in mente che stanno più un po' più avanti dice così così chiediamo poi a Ginevra Bompiani di incarnare questo ragionamento perché ci porta anche nel pieno del presente e dell'attualità anche se sembra un libro stilizzato diciamo di riflessione invece poi ha molte aperture su domande che potremmo farci sul mondo circostante e su che cos'è il mondo circostante se invece l'affetto tu scrivi è una forma del pensiero e dunque non una forza primigenia ma la forza che gli dà le ali lo guida e lo dirige non una spina nel fianco della ragione che anzi è proprio la ragione a trattenerlo con i denti e le unghie ma la pienezza del vento la rotondità dell'orizzonte la maturità della strada se è tutto questo sul suo cammino infestato dai banditi il nostro compito sarebbe sgombrargli la strada togliere le erbacce aprire le radure lavare il suo corpo qua è pagina 40 e io mi sono trovato di fronte forse all'evidenza non nei termini in cui l'avevi colta tu ma mi hai aiutato a sentire questa evidenza perché che cosa fai e ti lascio ovviamente spiegare metti in relazione la tua evidenza con qualcosa che la incarna parli di un viaggio il viaggio di Francesco in Palestina parli di personaggi letterari e dici il pensiero affettivo non è così eroico è qualcosa di molto invece più non so quotidiano da un certo punto di vista siamo noi che qualche volta lo freniamo gli impediamo a questo pensiero affetto a questa forma del pensiero affettiva di squadernarsi di prendere possesso dello spazio intorno a noi perché siamo ostili ti chiedo ma vai insomma per la strada che preferisci siamo così ostili al pensiero affettivo è perché appunto non riusciamo a a governare fino in fondo la ragione la pressione della ragione perché quella ci diventa nemica perché perché siamo governati dalla paura quella prima emozione del bambino dell'infante appena nato era un'emozione di paura e questa emozione della paura io penso sia forse non solo l'emozione primigenia ma l'emozione forse più importante che abbiamo che più ci governa non più importante perché migliore grazie la peggiore ma perché ci governa e noi siamo governati dalla paura e la ragione è il nostro alleato almeno crediamo che sia la nostra alleata e invece non è così invece è vero il contrario quello che come dicevo la ragione non sa fare non sa decidere e quindi quando la la paura si affida alla ragione non sa più decidere qual è la sua paura di che cosa deve aver paura e noi tendiamo secondo me ad aver paura quasi sempre delle cose sbagliate e per esempio appunto abbiamo paura del pensiero affettivo invece cioè abbiamo paura del caldo invece di aver paura del freddo tra l'altro questo mi fa pensare molto al tuo libro che è proprio su questo sul freddo affettivo e sul freddo reale anche tu potresti dirci qualche cosa sì questo penso anche se il pensiero affettivo appunto può essere può essere l'invidia può essere la gelosia può essere può essere la rabbia per esempio la rabbia è molto calda però ci dà una strada poi questa strada non è asfaltata questa strada sarà anche scomoda da percorrere ci sono i sassi caschi inciampi però è una strada il pensiero affettivo ci dà la nostra strada la ragione no e poi anche un'altra cosa che il pensiero affettivo secondo me mente meno della ragione la ragione è una gran bugiarda perché visto che non può decidere non è neanche ben sicura di cosa sia vero e cosa sia falso per capire il vero dal falso ci vuole il pensiero affettivo e vi sarete accorti che nel nostro tempo quasi nessuno distingue più il vero dal falso per esempio quasi tutto quello che ci viene detto in questo momento è falso ci vengono anche dette delle cose vere ma noi crediamo a quelle false ci piacciono di più ci piacciono di più quelle false se uno ti obiettasse in modo anche rozzo però vediamo come riesci a parare l'obiezione secondo me sei molto brava a farlo anche quando ti vedo dialogare con persone quasi infrequentabili in televisione senza quasi senza quasi però mi piace come difendi con energia diciamo appunto la tua dimensione di pensiero affettivo contro corrente contro tendenza se uno ti obiettasse rozzamente ma signora Bompiani ma non le sembra che questo sia quindi un libro anti-illuminista se l'illuminismo come processo storico è stato quello di liberare la ragione contro presunte tenebre di qualcosa che ha a che fare con i sentimenti che chiamiamo tra l'altro un po' deprezzandoli viscerali questa emotività che comunque lasciata a se stessa sarebbe invece obnubilante la ragione ci salva come si può smontare questa ipotesi che tu sia diventata o sia anti-illuminista beh non è che mi offendo se mi dai dell'anti-illuminista ok va bene così se per quello non mi piace neanche la rivoluzione francese l'illuminismo ci è sembrato meraviglioso perché era portato portato avanti che brutta espressione insomma era portato in mano era da esseri meravigliosi da scrittori meravigliosi ma pensa di Drou era un illuminista di Drou ma secondo me no secondo me di Drou era un esempio chiarissimo di pensiero affettivo Voltaire Voltaire era un illuminista beh insomma sì era era un liberista l'illuminismo aveva di bello che sembrava portare la libertà però ci sono due libertà come sempre c'è la libertà fredda e la libertà calda la libertà fredda è quella che Freud per esempio preconizza Freud dice quando dovete fare una scelta se non mettete da parte addirittura anche la volontà lui dice di mettere da parte la volontà e gli affetti non farete una scelta farete una scelta sicuramente sbagliata dovete metterli da parte e invece lasciare emergere la ragione e è lei che deve decidere abbiamo già visto che la ragione non è in grado di farlo l'illuminismo si difendeva beh si è difeso contro voglio dire il romanticismo è certo che c'aveva anche i suoi problemi non è che il pensiero affettivo o che gli affetti o che le passioni non abbiano dei grandissimi problemi certo che ce l'hanno ma sono vita sono la nostra vita e la ragione non lo è questo è molto molto interessante e provocatorio proprio nei termini dell'etimo cioè ti tira fuori qualcosa e ti fa vedere in un modo diverso non è detto che uno alla fine del libro debba essere d'accordo con Ginevra Bonpiani e anzi come vi dicevo la cosa interessante è che poi c'è la seconda parte del libro in cui Saradis Tanopoulos parte con qualche perplessità sull'evidenza di Ginevra e questa è la meraviglia di questo libro cioè lo leggi prima leggi la sua il suo cammino ma non sai che cosa lui le ha detto e poi leggi lui e poi ti accorgi che lui sollecitato dalla tua evidenza arriva a delle conclusioni che comunque la accolgono in un modo naturalmente specifico suo con i suoi strumenti di psicanalista con le sue letture filosofiche ma diventa questo libro non so se ti ritrovi in questa ipotesi mia quasi involontariamente una messa in evidenza pratica del pensiero affettivo perché queste due persone si parlano secondo codici di un pensiero affettivo cioè mettono a un certo punto si legge proprio in modo esplicito quello che sto cercando di dire e che ho sentito leggendo è proprio il fatto che siano amici che li mette nella condizione di verificare l'evidenza del pensiero affettivo altrimenti non saprebbero procedere come procedono perché c'è una distanza che è marcata dalla geografia ma c'è un'alleanza strategica che è prima emotiva che intellettuale cioè il presupposto di questo libro è un riconoscersi amici fratelli in qualche modo e poi allora ci mettiamo su quel viottolo per capire se con i piedi un po' fangosi se capire se tutto funziona però in tante è come se l'evidenza stava già alle spalle perché l'evidenza del pensiero affettivo condiviso è già il punto di partenza del libro non il suo punto d'arrivo quindi questo è molto interessante e ti dicevo dei personaggi a cui tu fai riferimento nella letteratura perché è vero che è nutrito di filosofia filosofia occidentale filosofia orientale psicanalisi è un libro che veleggia su tantissimo sapere su una bibliografia ma non è difficile ma non è difficile perché sono lettere che si scambiano due amici forse proprio per questo non è difficile e a un certo punto tu citi i personaggi di Dostoievski dall'idiota e da delitto e castigo ti chiedo visto che è solo un rigo però dici e allora Rogoi Mischkin Sonia e allora questi perché dici e allora loro che sembrano come dire nella convenzione proprio i personaggi più arresi all'affettività quelli più a volte addirittura pensa Mischkin più soverchiati dalla potenza del pensiero affettivo perché indichi loro come fossero dei non dico modelli ma insomma come degli indicatori morali beh sì perché questo il pensiero di Rogozhin Mischkin e Sonia questi tre grandi meravigliosi personaggi di Dostoievski viene dopo un altro personaggio adorabile che è San Francesco e una cosa che a me mi ha colpito sempre tanto mi piace moltissimo è il viaggio di San Francesco in Palestina tra l'altro dovrebbe proprio farlo in questo momento beh no il Francesco dici è sul sogno pontificio ma morirebbe morirebbe di dolore Francesco in Palestina a ogni passo perché lui è andato in Palestina a piedi naturalmente durante le crociate e veniva accolta dai crociati che tutti i trionfanti gli dicevano abbiamo vinto abbiamo vinto vieni a vedere e lo portavano nei campi dove lui vedeva tutti questi morti ed era disperato dice ma come abbiamo vinto ma come ma cosa avete fatto la vittoria la vittoria che brutta parola beh Francesco continua così disgustato di quello che fanno i crociati che continua a camminare e arriva dal Saladino e naturalmente subito viene arrestato ma lui continua adesso non vi racconto tutta la storia che è bellissima ma vi consiglio di leggere e conquista il Saladino ma con che lingua come gli parlava allora questa era la cosa che che dicevo con che lingua con che lingua parlano e Francesco come parla con gli uccelli e gli inermi con i rei guerrieri e la sua lingua è sempre uguale è sempre la stessa che parli con il lupo che parli con i crociati lui ha sempre la stessa lingua e anche i personaggi di Dostoievski hanno una lingua che non c'è la lingua alta la lingua bassa la lingua popolare la lingua colta c'è una lingua sola che è la lingua umana che era probabilmente quella che si parlava a Babele a meno che a Babele non si parlasse affatto secondo me a Babele non si parlava per niente erano tutti alle prese con il loro lavoro dovevano costruire una torre che siamo noi che siamo intrisi di senso di colpa che pensiamo che quella torre era un oltraggio a Dio ma che un oltraggio era un omaggio a Dio era bellissima questa torre poi a un certo punto si sono messi a parlare ci sarà stato un muratore che ha messo male un mattone dico un mattone non so non ho fatti di mattone non ho fatti di pietre veramente ma già ha messo male una pietre e l'altro gli ha detto ma no non si mette così e hanno cominciato a litigare perché parlando si litiga la lingua serve soprattutto a litigare il pensiero affettivo non ha bisogno di parlare ed è per questo che ci si intende così misteriosamente ma così bene con gli animali perché anche gli animali hanno un loro linguaggio ma non hanno bisogno di parlare si intendono intendono quello che è l'altro che è l'intenzione dell'altro adesso non so più se ho risposto alle due domande no no ma stiamo ovviamente girando intorno a una questione che è interessante proprio perché ha mille sfaccettature una di queste e tu ti rimballo infatti anche la tua gatta come personaggio di questo libro perché effettivamente e anche di Saradis anche lui abbiamo due gatti questa dimensione non linguistica e ci rispondiamo a gatto anche attraverso di loro mi ha molto colpito nella parte di di Saradis questa considerazione che lui fa quando accoglie l'idea che l'affetto sia forma di pensiero una forma del pensiero quando l'accoglie dice che questo ci consente di vedere la parola visto che evocavi le parole di Babele oltre la sua funzione di significante e cioè nella forza interna che l'anima e la rende viva soggettivamente significativa ecco la prova del pensiero affettivo che presiede al vostro libro conversando dice lui la forma di dialogo che è privilegio degli amici i nostri affetti si incontrano si intendono l'intesa è sempre affettiva gli accordi vengono dopo anche questo risuona parecchio col contemporaneo e le nostre parole ci dicono ciò che il loro campo semantico scientificamente studiato non consentirebbe mai loro di dire a un certo punto si arriva quasi a pensare perché lo dice lui che nella semantica cioè nella parola fine a se stessa ci sia qualcosa di mortifero allora ti chiedo di qualcosa di arido qualcosa di freddo se la parola è solo per la parola se la parola è solo parola e non è scaldata dal pensiero affettivo diventa morte diventa aridità una persona come te che è stata sempre in mezzo alle parole alle parole degli scrittori dei tuoi interlocutori dei filosofi penso che la tua vita sia cioè la parola scritta abbia una centralità enorme quanto forse la parola parlata la parola conversata però mi sembra affascinante il fatto che tu perché credo che tu sia d'accordo con questa posizione di Saradis cioè l'idea che se non c'è qualcosa che la muove la scalda la sommuove la intensifica quella parola non è molto l'hai sentito qualche volta anche leggendo alcuni libri che erano parole morte beh spessissimo veramente per esempio la noia la noia nasce quando le parole sono morte quando l'altro ti dice delle cose perché ti annoiano perché non c'è vita e anche quando leggi un libro e lo lasci perché ti annoia perché non c'è la vita dentro dove c'è la vita dove pulsa la vita dove batte la vita non c'è noia sì mentre parlai mi è venuto in mente sì questo con Saradis dunque perché Saradis aveva un grosso malloppo con sé cioè non mi affrontava quello che io dicevo da solo aveva tutto il pensiero psicanalitico e certamente facendolo psicanalista anzi essendo addirittura presidente della società di psicanalisi non poteva sbarazzarsene così facilmente ma aveva voglia di di entrare in questo pensiero che io ancora arrancavo ancora annaspavo diciamo però lui aveva voglia di entrare in questo annaspamento lui non annaspa affatto lui è molto molto più ordinato preciso comunque e quindi abbandonava piano piano abbandonava Freud Freud come dire l'ha sacrificato già dai primi dalle prime lettere Freud è già andato però c'era qualcun altro c'era Winnicott Winnicott fa un passo avanti perché c'era anche un altro tema di cui abbiamo molto dibattuto che sarà dispiace molto anche a me che è l'illusione perché l'illusione ha molto a che fare col pensiero affettivo ma cambia completamente se la vedi dal punto di vista della ragione o se la vedi dal punto di vista del pensiero affettivo e quindi lui piano piano si è avvicinato finché un giorno mi ha detto sono deciso che sono d'accordo con te l'affetto è una forma del pensiero e io a quel punto mi sono trovata in difficoltà perché lui è un compositore io no e nell'amicizia come nell'amore secondo me ci vuole un certo fiato un certo respiro una certa distanza e quindi ho voluto riprendermi la distanza quindi sono scappata un po' indietro in modo che nel nostro avvicinarsi allontanarsi avvicinarsi ci fosse sempre scorresse sempre l'aria perché l'aria secondo i greci è la vita pensare si dice noein in greco e noein vuol dire anche annusare 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 e pensare sono cioè veramente il pensiero è legatissimo al corpo proprio nasce nasce dal corpo e poi come dire porta porta fuori il pensiero e quindi dove eravamo? eravamo qua che cercavamo di riprendere il bandolo dai personaggi come San Francesco e come i personaggi di Dostoevsky per mettere alla prova questo pensiero affettivo che non è l'irrazionale lasciato a se stesso il selvaggio ma appunto è qualcosa che scalda perfino le parole cioè che dà senso alle parole e quindi alla comunicazione senza emotività tu dici a un certo punto il pensiero è inerte quindi questa è poi la sintesi più trasparente sulla quale bisogna convenire perché tu stessa dici non è che io intendo dire ovviamente estremizzavamo parlando di illuminismo o antiilluminismo tu stessa dici non è che uno si affida a forze irrazionali non è questo non è un elogio dell'irrazionalità è e qui ti lascio appunto glossare una capacità e usi la metafora dell'arco e delle frecce per cui il pensiero si compie nell'affettività si completa arriva al bersaglio nel senso però che diventa qualcosa che crea qualcosa che realizza qualcosa che è oltre che affettivo per giocare con le parole effettivo altrimenti è forse davvero astrazione qualcosa di fine a se stesso se non entra in una dimensione di relazione per l'appunto volevo visto che siamo alle battute quasi finali provare a portarti appunto sul terreno della contemporaneità che da cui questo libro diciamo è toccato per lampi perché chiaramente scritto in un certo momento storico noi lo riconosciamo dalle date viene fuori il caldo un acciacco il covid non è che sia un libro impermeabile a quello che ovviamente avviene ed è maggior ragione interessante per questo perché un dialogo si svolge nella vita non fuori dalla vita quindi continuamente tutti e due richiamate la gatta la lettura fatta il covid una cosa che succede così nell'esistenza quotidiana in questo momento però il libro sta uscendo ora come ci hai fatto intuire da una prima tua da un primo tuo intervento la carenza di pensiero affettivo mi sembra che sul piano della vita cosiddetta pubblica ti preoccupi no? come se fosse un grande rimosso come se ci affidassimo a una presunta ragione che però dà risultati come dici tu orrendi orrorifici terribili dov'è che si può secondo te se si può disinnescare questa illusione ma in senso negativo perché la parola illusione tu lo chiarisci all'inizio e poi lo riprende ovviamente Saradis che intitola il suo blocco l'illusione non è l'illusione come inganno è l'illusione come splendore semmai e questo ci porterebbe troppo lontano però per arrivare al punto secondo te c'è una possibilità di rendere centrale anche nella dialettica pubblica il pensiero affettivo a svantaggio di una presunta e mortifera ragione? allora adesso devo cercare molto di di riassumere allora prendiamo illusione per Freud la realtà è la delusione è così noi ci illudiamo e cioè ci inganniamo secondo Freud ma non dobbiamo non dovremmo illuderci noi dobbiamo e grazie all'analisi riusciamo per fortuna l'analisi questa cosa non ci riesce ma insomma attraverso l'analisi dovremmo riuscire a veramente disilluderci ed arrivare così alla realtà ora secondo me è tutta una strada sbagliata perché alla realtà non ci porta alla disillusione ma ci porta all'illusione perché l'illusione se la inventa la realtà e poi ti ci porta senza l'illusione la realtà non ne avresti proprio idea no pensate pensate all'amore è possibile innamorarsi senza illudersi dunque per Freud la realtà è la delusione certo che ce l'hanno ma sono vita sono la nostra vita e la ragione non lo è questo è molto molto interessante e provocatorio proprio nei termini dell'etimo cioè ti tira fuori qualcosa e ti fa vedere in un modo diverso non è detto che uno alla fine del libro debba essere d'accordo con Ginevra Bompiani e anzi come vi dicevo la cosa interessante è che poi c'è la seconda parte del libro in cui Saradis Tanopoulos parte con qualche perplessità sull'evidenza di Ginevra e questa è la meraviglia di questo libro cioè lo leggi prima leggi la sua il suo cammino ma non sai che cosa lui le ha detto e poi leggi lui e poi ti accorgi che lui sollecitato dalla tua evidenza arriva a delle conclusioni che comunque la accolgono in un modo naturalmente specifico suo con i suoi strumenti di psicanalista con le sue letture filosofiche ma diventa questo libro non so se ti ritrovi in questa ipotesi mia quasi involontariamente una messa in evidenza pratica del pensiero affettivo perché queste due persone si parlano secondo codici di un pensiero affettivo cioè mettono a un certo punto si legge proprio in modo esplicito quello che sto cercando di dire e che ho sentito leggendo è proprio il fatto che siano amici che li mette nella condizione di verificare l'evidenza del pensiero affettivo altrimenti non saprebbero procedere come procedono perché c'è una distanza che è marcata dalla geografia ma c'è un'alleanza strategica che è prima emotiva che è intellettuale cioè il presupposto di questo libro è un riconoscersi amici fratelli in qualche modo e poi allora ci mettiamo su quel viottolo per capire se con i piedi un po' fangosi se capire se tutto funziona però intanto è come se l'evidenza stava già alle spalle perché l'evidenza del pensiero affettivo condiviso è già il punto di partenza del libro non il suo punto d'arrivo quindi questo è molto interessante e ti dicevo dei personaggi a cui tu fai riferimento nella letteratura perché è vero che è nutrito di filosofia filosofia occidentale filosofia orientale psicanalisi è un libro che veleggia su tantissimo sapere su una bibliografia ma non è difficile ma non è difficile perché sono lettere che si scambiano due amici forse proprio per questo non è difficile e a un certo punto tu citi i personaggi di Dostoievski da dall'idiota e da delitto e castigo ti chiedo visto che è solo un rigo però dici e allora Rogoin Mischkin Sonia e allora questi perché dici e allora loro che sembrano come dire nella convenzione proprio i personaggi più arresi all'affettività quelli più a volte addirittura pensa Mischkin più soverchiati dalla potenza del pensiero affettivo perché indichi loro come fossero dei non dico modelli ma insomma come degli indicatori morali beh sì perché questo il pensiero di Rogoin Mischkin e Sonia questi tre grandi meravigliosi personaggi di Dostoievski viene dopo un altro personaggio adorabile che è San Francesco e una cosa che a me mi ha colpito sempre tanto mi piace moltissimo è il viaggio di San Francesco in Palestina tra l'altro dovrebbe proprio farlo in questo momento beh no il Francesco dice sul soglio pontificio no? ma morirebbe morirebbe di dolore Francesco in Palestina a ogni passo perché lui è andato in Palestina a piedi naturalmente durante le crociate e veniva accolta dai crociati che tutti i trionfanti gli dicevano abbiamo vinto abbiamo vinto vieni a vedere e lo portavano nei campi dove lui vedeva tutti questi morti ed era disperato diceva ma come abbiamo vinto ma come ma cosa avete fatto la vittoria la vittoria che brutta parola beh Francesco continua così disgustato di quello che fanno i crociati che continua a camminare e arriva dal Saladino e naturalmente subito viene arrestato ma lui continua adesso non vi racconto tutta la storia che è bellissima vi consiglio di leggere e conquista il Saladino ma con che lingua come gli parlava allora questa era la cosa che che dicevo con che lingua con che lingua parlano e Francesco che c'è che c'è che c'è